Gianluigi Pirrera, AIPIN, la valorizzazione della Valle del Fiume Morello, anche tu Gianluigi hai 20 minuti e come gli altri ti segnalerò quando ha 5 minuti della chiusura. Io parlerò di ingegneria naturalistica, anche se in termini un po' diversi da come sono stati mostrati, in maniera forse un po' rigida rispetto alla definizione che ha fatto Paola Sangalli. Le ragioni sono tante, soprattutto perché stiamo parlando di riqualificazione fluviale, ma l'Europa è grande, anche l'Italia è grande, e per parlare di fiumi abbiamo bisogno di acqua e suolo e noi abbiamo ambiti fluviali, ma di fatto valloni, dove il suolo viene completamente eroso nell'Incile e poi fondamentalmente l'acqua non l'abbiamo, tranne che durante i periodi... Questo in sintesi è il mio sommario, in cui ci saranno due fasi fondamentalmente introduttive, il focus dell'oasi fluviale Valle del Morello e due fasi di chiusura. Allora, partiamo fondamentalmente dagli approcci brasici e quelli nuovi dell'ingegneria naturalistica verso il soil water bioengineering. Questo perché? Perché mi piace ricordare, che non l'ha fatto nessuno fino adesso, che la definizione portata da Giuliano Sauli circa 30 anni fa si basava su questi aspetti fondamentali, che già allora erano veramente molto avanzati e adesso potremmo dire che sono superati da tante cose perché effettivamente la visione è abbastanza diversa. Questa fondamentalmente è la visione della definizione che ci ha dato Paola Sangalli, dove bioengineering fondamentalmente è un processo in cui non si parla soltanto di tecniche, ma l'ingegneria è anche strategia. Quindi se non c'è una corretta strategia del fiume e in ambito di bacino, non andiamo da nessuna parte perché dobbiamo risolvere i problemi, quindi i problemi non sono certamente soltanto quelli dell'erosione, della stabilità delle sponde, eccetera. E questa foto che avevo mandato qualche tempo fa e che forse appunto non era stata ben compresa è proprio perché rappresenta i padri dell'ingegneria naturalistica. Manca Schickel, ma fondamentalmente c'è Bernard Lachat più volte citato, Florin Florinet, Paolo Cornelini che abbiamo già sentito, poi c'è anche Fernandez, un americano, Paola Sangalli che ha organizzato l'evento. Insomma questa foto serve a dire che se il fiume deve essere studiato dal punto di vista del fiume, ma dall'uomo e deve essere percorso in alveo laddove è possibile, tutto questo deve essere fatto anche in una logica di partecipazione sociale. Ecco, ora la domanda è nel 2020 questo è sufficiente o andremo avanti in altre direzioni? Probabilmente questo concetto deve essere ancora ampliato. Allora, innanzitutto c'è l'aspetto della formazione che è fondamentale, Paola ne ha accennato qualcosa, allora rimanendo, visto che Paola rappresentava l'EIFIB, molto rapidamente voglio far scorrere un cantiere didattico dell'EIFIB svoltosi a Malta, quindi in ambito mediterraneo ma siamo al sud, con una fase frontale ovvia come c'è un po' in tutti i corsi, questo minicorso dove le tecniche sono state quelle del manuale che ci ha esposto Paola, dove gli obiettivi fondamentalmente erano quelli in un alveo dove, qua siamo a settembre, acqua non ne vedete completamente, ma l'acqua c'è quando ci sono i fenomeni di piena, prevalentemente nel periodo invernale. L'obiettivo è quello di ricostituire le gallerie di salici che vedete dietro l'arundeto e quindi riportare i salici dove è sparita completamente la vegetazione. Queste sono le fasi. Qua materiale vivaistico non è stato utilizzato, esclusivamente germoplasma locale, da taglio, poi messo in acqua un giorno prima per il taleaggio e dopo messo in opera. Questo è un cantiere didattico fatto in collaborazione per l'Efib, in collaborazione con Rosemary Stangol, l'austriaca che segue Florin Florinet nella cattedra sua. Ci sono state delle tecniche che abbiamo esposto, ma come vedete questo è un mini cantiere didattico molto interessante perché ci siamo ritrovati con materiali non idonei dal punto di vista del dimensionamento. Allora per la prima volta abbiamo fatto un cantiere didattico in scala 1 a 2, anche per verificare la validità dei materiali. Ebbene, questa è la conclusione dei lavori, il risultato è stato questo. A seguito di una piena le piante hanno resistito, un cantiere semplicemente di un giorno, le piante hanno resistito e gli attecchimenti ci sono stati. Questo è il monitoraggio a 7-8 mesi e lo sviluppo delle talee dopo poco tempo. Solo materiale locale non vivaistico. Altre informazioni saranno pubblicate sul prossimo numero di ACER. Andiamo adesso al focus della presentazione che riguarda l'Oasi fluviale Valle del Morello. Un po' di storia riguarda il fatto che questo è un lavoro molto vecchio, del 2008, che aveva fondamentalmente come obiettivo del progetto di fattibilità quello di pulizia, questo bruttissimo termine, pulizia dell'alveo, per permettere dell'alveo del fiume Morello e dei valloni tributari per fare in modo che l'acqua potesse affluire alla diga sottostante. Bene, il progetto però è stato presentato, quello esecutivo, in maniera molto diversa. Allora si diceva in termini olistici, adesso fondamentalmente diremmo guardando allo sviluppo di servizi ecosistemici per l'accrescimento e il mantenimento del capitale naturale e culturale. Questa è una foto a cui sono molto affezionato, perché questo è ciò che ha ispirato il progetto. Questa foto è come se fosse stata fatta più di due millenni fa, perché questa è un'area che era percorsa, era tutta navigabile ed era un'area che permetteva il trasporto, gli scambi dei minerali e delle rocce e quindi in particolare delle ossidiane dalle olie verso l'Africa e al contrario da Pantelleria verso le olie e verso il nord. Quindi ci dà l'idea come tutto è cambiato. Ma siamo in Sicilia e la regione d'Europa ha maggior tasso di desertificazione e Villa Rosa è proprio la città, il comune della Sicilia, maggior tasso di desertificazione in Sicilia e conseguentemente d'Europa. Quindi questa è la foto della visione del progetto. E allora guardando la memoria bisognava anche guardare con gli occhi dei villarosani e questo fondamentalmente è una poesia che parlava di clima caldo, del fiume, del poco verde, della terra alza, delle rare piante, delle miniere. Praticamente ci sono tutte le keywords del progetto. E ancora specificatamente andando a volo d'uccello con dei pinnuti farchi, come diceva De Simone, ci dice l'importanza del tamericeto e di altri aspetti chiave. Ma i valori, quindi guardiamo in scala di bacino, ci sono valori da salvaguardare, architettura, siti archeologici, valori minerari, archeologia industriale e questo è il capitale umano che è derivato dall'uso dell'uomo. Però anche una natura, come anche una natura inaspettata, abbiamo orchidee in discarica, in discarica che non hanno avuto un processo completo sino alla rinaturalizzazione, semplicemente una messa in sicurezza eppure la natura si riprende i propri spazi e far ricrescere le orchidee proprio in discarica. Quindi un capitale naturale abbastanza importante. Ma il progetto era anche un progetto infrastrutturale in maniera tradizionale e allora quali erano le opere? Cinque capitoli fondamentalmente delle greenway con delle sentieristiche che mettevano in correlazione i vari siti. Opere tradizionali in ingegneria naturalistica, dove per tradizionale io intendo fondamentalmente quello che viene malamente interpretato come una rigidezza di opere, ma non è questa dell'ingegneria naturalistica. Opere specificatamente per la fauna, quindi per il wildlife management, quindi isole, pali di sosta, niti, zattele galleggianti, eccetera. Aree dedicate alla fruizione, birdwatching, ricerca, accoglienza, vivai, manutenzione, eccetera. Ma soprattutto opere per la depurazione in alveo e quindi se guardiamo a ciò che viene considerato, io dico ormai erratamente dai manuali come ciò che è l'ingegneria naturalistica o l'ingegneria naturalistica e molto altro, queste sono state le opere che sono state messe in opera e con messe a dimora di piante prevalentemente del luogo in alveo nelle sponde, eccetera. Ma lo voglio ribadire, l'obiettivo principale tecnico più che il controllo dell'erosione fondamentalmente è quello della stabilizzazione delle sponde, visto che siamo in un ambito di bacino, è quello per la desertizzazione che avanza, trattenere l'acqua e il suolo nei valloni tributari, valloni tributari che non hanno acqua. Le opere per il wildlife management sono opere molto semplici, isole galleggianti molto utili, anche pozzetti per anfibie, beveraggio, uccelli e piccoli mammiferi per indirizzare le acque dei sentieri, ovviamente per la fruizione del birdwatching, queste altre opere, la cartellonistica fruizione, perché il coinvolgimento della popolazione è stato fondamentale, ma c'è fondamentalmente, guardando alle opere, che dobbiamo tenere conto del climate change, quindi i problemi maggiori sono questi, come vi dicevo, la desertizzazione e dell'interrimento dell'invaso. Queste sono le precipitazioni medie, siamo molto, ma molto al di sotto della media regionale, che è 633 mm e che è certamente al di sotto delle medie nazionali e di quelle svizzere, con temperature medie annuali molto alte che oscillano tra i 12 e i 16 gradi e in estate siamo spesso in piena campagna con temperature superiori ai 45 gradi. Queste sono le temperature e le piogge, il progetto, la direzione dei lavori e tutto, è chiaro che è stato fatto in multidisciplinarietà, una multidisciplinarietà applicata, perché effettivamente ci sono tante professioni, non solo ingegneri, architetti, ma anche naturalisti, geologi, eccetera. 625 mila euro di opere di ingegneria naturalistica su un milione circa complessivi. La fauna, l'importanza della fauna. Opere specifiche sono state fatte per la fauna, credo di averne vista qualcuna prima con la parte dello Svizzero. Questi sono stati dei pennelli in alveo per cercare di trattenere l'acqua quando si hanno livelli idrici così tanto bassi e la bragato fauna soprattutto ha bisogno di queste cose come i piccolissimi bacini. La vegetazione. Due sono stati i concetti quello della vegetazione. Uno, la vegetazione dall'ambito umido al secco, sino alle specie che non appartengono alla rinaturalizzazione, come il fico d'India, che sono però ormai specie storicizzate per il paesaggio siciliano e mediterraneo. Ma le specie idonee per l'ingegneria naturalistica vanno da quelle principali, come la tamarix africana, alle varie idrofite, sino a flora di interesse naturalistico. E la flora di interesse naturalistico è questa, una gamma di orchidee notevolissime, ma anche di iris. Quindi questi sono stati gli obiettivi, posso dire, tecnici dell'ingegneria naturalistica. Allora, ma come dicevo, l'obiettivo principale, anzi o meglio, l'aspetto più innovativo è stato quello della depurazione come occasione per rinaturalizzare. Allora, questa è la situazione. Il comune di Villarosa ha due valloni completamente asciutti, il vallone Vanelle e il vallone Mastro Silvestro, che hanno come portata esclusivamente le portate di due terzi del paese parzialmente malamente depurate e l'altro invece un terzo del paese con scarichi completamente bruti, senza alcuna depurazione. Quindi ovvio che un intervento in alveo dei valloni, ripeto, non in fiume, era quello di salvaguardare le acque della diga, migliorandone la qualità per quello che è possibile. Quindi gli obiettivi erano fondamentalmente questi sette, per migliorare le condizioni del lago Villarosa. Non certamente con fitodepurazione, intesa anche questa in termini ingegneristici, ingegnerizzati, vorrei dire, attraverso geometria, perché a me piace ricordare che Bernardo Lascia... Gianluigi, sei, sette minuti. Sette minuti, allora volo letteralmente. Questa è la scelta di sette interventi chiave, dove non si è fatto altro che intervenire in alveo attraverso quello che viene considerato il principio è l'infiltrazione per colazione che deriva dal concetto dei percolatori, ma varando dei sacchi in alveo per creare dei bacini temporanei dietro queste briglie molto sommarie e naturali e far crescere la vegetazione. Queste delle situazioni, ma fondamentalmente una delle tecniche di ingegneria naturalistica che a me piace molto e che abbiamo molto utilizzato è che lo potete trovare nei manuali di Florin Florinet fondamentalmente è quello dell'utilizzo del materiale di gestione di tipo forestale, di tutto ciò che si trova intorno, ma anche del verde urbano, per occupare lo spazio dell'alveo completamente asciutto e fare in modo che avvengano processi di filtrazione e di trattenimento dell'acqua. Ecco, questo è un principio fondamentalmente di economia circolare. Questi alcuni aspetti del prima e dopo. Altri attraversamenti stradali che fondamentalmente sono serviti anch'essi per trattenere l'acqua e avere un effetto depurativo. Questo fondamentalmente è uno schema del professore Dasaro che probabilmente interverrà al dibattito e che ha studiato il tutto sotto questi tre processi, quello di infiltrazione per colazione, quello di un'area di sedimentazione con lagunaggio vero e proprio e quello della fitodepurazione. Ecco, questo è qualcosa che sicuramente oggi faremmo in maniera un po' diversa, nel senso che anziché utilizzare materiale di cava per riempire questi sacchi, basterebbe utilizzare scarti da sfabricire, anche scarti di vegetazione. L'efficacia depurativa dipende da tutto il volume filtrante, dal volume di lagunaggio e dalla biotecnica delle specie idrofite utilizzate e poi da quello che attecchisce successivamente. Questi risultati dopo otto mesi, per i vari aspetti, cosa è successo adesso, dopo dodici giorni, dopo dodici anni circa? Queste sono le aree focus principali delle aree di depurazione. A volo d'uccello vediamo un po' quello che è successo. Sulla testa dell'alveo, dove abbiamo fatto fondamentalmente questi interventi con i fascinoni derivanti dalla manutenzione del verde urbano e dal taglio della vegetazione asciutta nell'intorno, abbiamo avuto fondamentalmente, questo è il focus sulla destra, un aumento netto della vegetazione. Invece più a valle, a monte degli interventi, sono cresciuti i salici che si sono fondamentalmente autopropagati, perché hanno trovato una stagnazione di acqua, laddove fondamentalmente l'acqua subito dopo una pioggia si perdeva e quindi il saliceto è cresciuto notevolmente. Io non amo il salice perché è una di quelle piante che se non ha proprio l'acqua non ce la fa assolutamente accrescere in Sicilia. Queste le foto effettivamente del saliceto ormai ben insediato. Allora il tutto è stato valutato in termini di funzionalità sostenibile, cercando di vedere i risultati delle singole quattro funzionalità di base nella definizione del 90% di Giuliano Sauli, con un risultato del 79%. Non possiamo andare nel merito di come funzionano queste cose, ma fondamentalmente, splittando fondamentalmente le quattro funzionalità, si è valutato il tutto dal punto di vista, per esempio, per quanto riguarda funzionalità tecnica, una stabilità complessiva, quella biotecnica, quella di riloginazione delle acque, il controllo dell'erosione, rischio umano, idrogeologico e così via, anche per le altre cose, per la funzionalità naturalistica, eccetera. Concludo dicendo fondamentalmente che l'esperienza, l'ascito fondamentalmente di questa esperienza è stato quello di cercare di fare in modo, in tutti gli interventi che poi successivamente abbiamo fatto, di fare in modo che ci sia un diretto collegamento con la creazione di aree umide, sia per la fauna, ma anche per una biodiversità floristica abbastanza di interesse. Quello di prima è un caso fondamentalmente di depurazione naturale a valle di una fitodepurazione di tipo tradizionale, queste le piante insediate si sono tre specie per la fitodepurazione tradizionale e tante altre che ne crescono dietro, questo è un esempio che non è in Sicilia, ma fondamentalmente una tecnica tradizionale, ingegneria naturalistica, nel senso che è un'impermeabilizzazione con geocompositi bentonitici che però hanno permesso di sviluppare veramente la flora originaria di questa riserva del WWF a Vanzago. Ma concludo realmente con quest'altro esempio, questo è un impianto di fitodepurazione per un'azienda igroittica fondamentalmente che se come scopo commerciale aveva la produzione ittica di specie che sono scomparse nel territorio siciliano, le trote si trovano poco nel ragusano e in pochi altri posti, ma avevamo gli storioni, il fiume Oreto a Palermo aveva gli storioni e tanti in altri posti, ma soprattutto è importante per delle specie prioritarie, qui si producono delle anguille e così la produzione delle anguille può servire anche per gli obblighi tiogenici, qualcosa che viene trascurato completamente da un punto di vista delle applicazioni, ma anche del legislatore, noi qui in Sicilia abbiamo pochissimo, ma sono poche le regioni che hanno una politica per gli obblighi tiogenici specifica, quindi guardare all'industria anche per i fiumi credo che sia fondamentale e questo serve anche per migliorare la qualità dei deflussi, ho realmente finito, queste sono le conclusioni, sono sette punti, a 12 anni le opere di ingegneria naturalistica non sono praticamente visibili se non per la maggiore cobertura vegetale, sono comparsi i salici e i pioppi e fondamentalmente già nei primi anni c'è stato un forte senso di appartenenza del bene collettivo, quindi la popolazione ha ben preso il tutto, però invece le governance non sono riuscite a trovare un'adeguata intesa gestionale per la manutenzione delle opere. Un nuovo monitoraggio naturalistico farebbe emergere l'utilità dell'ingegneria naturalistica per la depurazione idraulica in alveo, il patrimonio naturalistico archeologico e minerario oggi è particolarmente importante perché il trekking e il turismo lento sono diventate ormai facenti parte della nostra cultura e basta, io chiuderei solo con l'ultimo punto che è quello della conoscenza che mette assieme tutti gli aspetti tecnici e la formazione, esecuzione e monitoraggio con quelli dell'appartenenza e comprende la manutenzione, sono principi fondamentali per la valorizzazione dei corsi d'acqua come bene collettivo, perché se non c'è questa strategia non andremo a nessun'altra parte. Io chiudo fondamentalmente con questa immagine che fa vedere come nel 2017 si sia tornato ad evocare il poeta De Simone per il valore dell'acqua in questo paese. Va bene, grazie anche Gianluigi Pirrera che oltretutto ci ha fatto vedere e ci ha portato in una situazione dove sicuramente è molto più difficile lavorare proprio per la carenza d'acqua, quindi con dei problemi completamente diversi da quelli che abbiamo visto. Con lui si chiude la mattinata di interventi e abbiamo un po' di spazio per un dibattito o per fare domande, mi sembra anche importante comunque richiamare alcune delle sfide che abbiamo citato in premessa, cioè queste che ci troviamo di fronte, soprattutto quelle legate alla strategia per la biodiversità, abbiamo questi 25 mila chilometri europei che dovremmo riconnettere o riqualificare entro il 2030, quindi vuol dire che qui in Italia dovremmo impegnarci per almeno 1600-1700, quindi di lavoro ce ne avremmo tantissimo da fare. Dalla carrellata di esperienze che abbiamo visto questa mattina, di cui noi probabilmente eravamo tutti quanti già a conoscenza e certi, però possiamo dire con forza che si può fare, si può cambiare approccio alla gestione dei nostri corsi d'acqua. C'è ancora molto da fare perché è veramente difficile scardinare certi comportamenti consolidati, lo abbiamo visto per esempio in Emilia Romagna dove ci sono delle linee guida bellissime, ma poi sul territorio è molto difficile fare interventi, far cambiare la modalità per esempio di gestione e di manutenzione dei corsi d'acqua e molto spesso noi riusciamo a fare o promuovere dei progetti di rinaturalizzazione, di riqualificazione con progetti particolari, con dei live, con altre cose. Ancora non c'è una prassi di queste cose, quindi il lavoro da fare, di formazione, come diceva e ricordava adesso Pirrera, di formazione e di informazione, perché una delle cose molto gravi secondo me è che ogni volta, e l'abbiamo visto anche in questi giorni dopo i disastri che sono avvenuti, c'è sempre qualche politico e sono tanti purtroppo che hanno la soluzione in tasca, basta dragare, basta fare questi tipi di interventi e basta. Il problema è che si strumentalizza quello che può essere un intervento, magari in alcuni casi che se è mirato può aver senso, come per esempio la rimozione di materiale in situazioni a rischio, con la soluzione del problema, cioè laddove tu hai tolto in molti casi veramente chilometri quadri di aree di espansione dei fiumi, perché sappiamo tutto il problema del consumo di suolo eccetera, quindi le sezioni di alveo si sono ridotte di centinaia e centinaia di metri, in alcuni casi non puoi recuperare tutto quello spazio scavandolo, è evidente. Però c'è un po' questa fake news, in fondo basta dragare i fiumi, l'ho detto due anni fa c'era stata quella affermazione di Salvini subito dopo le consuete alluvioni, poi è stata ripresa da vari governatori, in Liguria dove ha fatto di tutto per costruire sempre più vicino ai corsi d'acqua, tra l'altro in una regione dove i corsi d'acqua sono problematici di loro per la loro costituzione, per la geomorfologia della regione, la soluzione Totti in questo caso è semplice, è quella di dragare, quindi abbiamo molto da fare proprio per cercare di cambiare un po' questa approccia, di convincere che si può fare diversamente, che non ci sono delle soluzioni semplici, ma sono soluzioni complesse, articolate, che devono tenere conto come abbiamo detto oggi, del bacino, dell'idrografico, delle condizioni e anche delle migliori tecnologie che ci sono, adesso ci sono, sappiamo farle queste cose, l'abbiamo fatto, l'abbiamo visto oggi. Quindi secondo me è fondamentale proprio anche un lavoro comune di tutti noi, cioè dobbiamo trovare un modo anche per un confronto adesso, in questo momento, in questi giorni, nei prossimi giorni con il governo, con il governo nazionale, ma anche con i regionali per cercare di far sì che venga programmato qualche cos'altro, perché come ci diceva anche Laura all'inizio, tutto sommato alcune cose che erano dentro importanti, alcuni principi che erano dentro alcuni documenti, si sono poi persi e anche nelle linee guida del piano che dovrà poi essere il, dovrà poi definire poi i progetti che dovremmo fare con i soldi europei, diciamo si è perso un po' tutto questo. Tra l'altro io, e mi taccio qui, abbiamo fatto come WWF, abbiamo lanciato pochi giorni fa un documento proprio sulla manutenzione sui fiumi, perché purtroppo le segnalazioni che ci arrivano di interventi devastanti sui corsi d'acqua sono tantissime, arrivano da tutta Italia, purtroppo è una cosa allucinante e abbiamo fatto questo report con tutta una serie di proposte, che poi molte delle quali sono quelle di cui poi di fatto abbiamo parlato anche oggi. Grazie. Grazie. Grazie.